Dopo un furto ha guardato la telecamera e ha salutato con il gesto delle corna. L'uomo è stato identificato e arrestato. I carabinieri hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano di 33 anni e di pianezza, ritenuto responsabile di una serie di furti e ricettazione. Il provvedimento scaturisce da un'attività investigativa svolta dalla stazione Carabinieri di Pianezza che attraverso l'analisi comparativa delle registrazioni acquisite dai sistemi di videosorveglianza installate all'interno nei pressi dei luoghi derubati, ha identificato l'autore dei cinque furti verificatisi tra maggio e agosto di quest'anno ai danni di un'abitazione, ristorante e una bocciofile a una società sportiva. L'uomo è rubato il denaro contante dal registratore di cassa, materiale elettronico, un defibrillatore, diverse tre tipi di giardinaggio, dal valore complessivo di circa 1.600 euro, guantoni da sci, una mountain bike e una motosega. Grazie a tutti! Grazie! Grazie!